Addio pellicce, la regina Elisabetta chiude nell'armario i suoi preziosi capi spalla. La svolta animalista di Sua Maestà è stata resa nota da Angela Kelly, suo assistente per l'abbigliamento e confidente informale. La notizia è stata confermata anche da Buckingham Palace. Elisabetta affronterà gli impegni ufficiali dei prossimi mesi solo con cappotti ed ecopellicce e chiaramente con i suoi immancabili completi color pastello. La conversione della sovrana sembra andare incontro alla sensibilità dell'erede al trono Carlo e dei nipoti, in particolar modo Harry, in prima fila su questo fronte con la moglie Meghan. A 93 anni Elisabetta non smette quindi di stupire e chissà che nel prossimo futuro non ci regali anche una svolta vegana.